Siamo veramente molto contenti e soddisfatti di questa opportunità che ci viene concessa dal gruppo Footvolley Italy per organizzare il primo campionato italiano di footvolley. Sarà sviluppato in quattro tappe il circuito, partiamo da Pesaro domani mattina e in agosto, il 29 agosto, ci sposteremo a Roma per poi a settembre andare a Savona e concludere le quattro tappe a Rimini nel mese di novembre. Verrà decretato alla fine la coppia campione italiana e le prime due andranno a giocarsi il campionato europeo nel 2022, quindi con le altre nazioni europee si sfideranno i migliori. Saranno presenti 32 coppie da tutta Italia, quindi domani mattina partiremo alle ore 10, tempo permettendo il campionato partirà dal Maracanà in Viale Trieste. Se purtroppo, come sembra, il meteo non ci aiuta abbiamo questo piano B e ci sposteremo allo Smash Sport in Via Toscana, indoor. Quindi 32 coppie che si sfideranno per poi arrivare alla finale nel pomeriggio. Siamo riusciti a uniformare tutto il movimento, insomma ce n'è ancora tanto di lavoro da fare, però da domani finalmente avremo un inizio. Sarà la prima di quattro tappe, quella di Pesaro, poi saremo a Roma ad agosto. È una grande gioia incominciare questo tour dove si vedranno tutti i migliori giocatori italiani che si sfideranno e cercheranno di battersi per poi cercare di arrivare ad un punteggio che il prossimo anno gli permetterà di competere a livello internazionale. Nonostante i recenti problemi che ci hanno coinvolto tutti quanti con il Covid, siamo riusciti in poco tempo a mettere su una struttura all'altezza perché siamo accompagnati da Sky che è un'eccellenza nel panorama italiano, possiamo essere fieri di questo. Secondo me il football è uno sport che dal punto di vista televisivo uscirà molto molto bene. E poi la storicità di un marchio come Umbro che è storicamente sempre legato al calcio, però ha visto questo progetto e anche i vertici di Umbro Italia si sono entusiasmati e ci stanno accompagnando. Noi ti ricordiamo con le maglie di Roma e Sampdoria per citarne solo alcune, ma ci chiediamo da dove dopo una carriera in Serie A arrivi questa infatuazione per questa disciplina? Beh, infatuazione è proprio la parola giusta perché finito di giocare ho trovato con Fred e con degli amici in comune uno sport che non conoscevo e che se per qualche verso ricorda il calcio per altri è completamente diverso insomma nel calcio si tende a tenere la palla il più bassa possibile per poterla giocare quindi invece in questo sport bisogna cercare di alzarla per arrivare a rete e mettere in difficoltà l'avversario e mano a mano è diventata sempre di più una droga, uno sport che piace tantissimo anche ai giovani sicuramente non è semplicissimo perché c'è la difficoltà della sabbia, però insomma io mi sono veramente innamorato.